Giacomo Onanni, difensore della Norese. Oggi siete felicissimi, una grande vittoria nel big match con il Muravera. Sei entrato nel finale, c'è stato un po' di sofferenza perché poi il Muravera spingeva e avevate anche con l'uomo in meno. Sì, siamo stati bravi a soffrire, però questo gruppo ha una forza incredibile anche in questo, non a caso siamo lì davanti. Siamo stati bravi a fare il secondo gol, non l'abbiamo mai mollato su ogni pallone, non ci siamo mai tirati indietro e quindi è tutto meritato. Unica distrazione sul gol del 2-1 del Muravera, lì ha rimesso in un momento in bilico la gara. Sì, cose che possono succedere, naturalmente lavoriamo ogni giorno perché questo non accada, però ripeto, bravi noi a fare due gol e quindi va bene così. Complimenti a voi soprattutto per il primo tempo perché pur avendo la classifica a vostro favore avete giocato per vincere la gara. Sì, sapevamo che davanti a noi troviamo una squadra sicuramente affamata, quasi come al nostro livello, ma appunto ripeto che la forza del gruppo vuol dire tantissimo, soprattutto in questa categoria e per questo oggi abbiamo vinto noi e tre punti li abbiamo portati a casa noi. Cosa significa più cinque da quella che comunque veniva indicata un po' come la favorita? Naturalmente questo non significa che abbiamo vinto niente perché il campionato è iniziato da poco, siamo a un quarto del campionato, mancano ancora tantissime partite e quindi dobbiamo essere bravi comunque a continuare su questa strada senza mollare un centimetro perché questa è la strada giusta. Tra l'altro oggi ha vinto anche il Sorso, il Sorso ha battuto sia a voi che il Muravera, comunque non bisogna neanche escludere le altre squadre. No, infatti questa è la prova appunto del valore, il livello di questo campionato e proprio per questo non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare a lavorare a testa bassa. Senti, personalmente che è successo visto che stai entrando dalla panchia, ti abbiamo visto il titolare negli altri agghiere? Sono scelte che fa il mister, noi siamo qui per lavorare, per fare bene e ascoltare quello che dice di fare il mister, ma siamo dei ragazzi che andiamo tutti d'accordo, siamo tutti felici, tutti qui per un unico obiettivo, quindi non importa quale decisione prenda il mister, certo dispiace però l'importanza è la squadra. Senti, chiudiamo con un concetto del mister, dice la prova di maturità è domenica, giocate con il Tortoli perché queste gare forse si preparano meglio, questa prossima con l'euforia che c'è oggi sarà più difficile? Più difficile se la affrontiamo con uno spirito diverso, noi dobbiamo andare lì con la testa con cui siamo stessi in campo oggi perché è la mentalità giusta, giustissima e secondo me faranno fatica a fregarci tre punti se entriamo in campo come oggi. Certo, grazie Giacomo, il tuo compagno è stato espulso, sarei pronto per domenica ad entrare in campo? Sì, io sono sempre pronto, non c'è un problema. Grazie, complimenti ancora. Grazie a te.